Berlusconi-Renzi sulla nuova legge elettorale, per Forza Italia potrebbe essere una svolta storica. Noi compromessi dal Movimento 5 Stelle, parte da qui la sintesi di Andrea Bovio. Nessun accordo, nessun compromesso sulla legge elettorale per i 5 Stelle. La proposta del Movimento nascerà dalla rete dopo una discussione tra gli iscritti. Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo discutere all'interno delle sedi istituzionali e soprattutto con i cittadini in rete. Queste sono le nostre priorità e soprattutto vogliamo abbattere l'immu aumentando le tasse sul gioco d'azzardo. Queste sono le priorità per il Paese.